Giuseppe Conte ne ha parlato bene, cioè riconferma che per lei è un riferimento per il progressismo. Ha stato bene che è stato Presidente del Consiglio con il sostegno del PD, quindi vuol dire che ha fatto anche bene il Presidente del Consiglio. Basta. Oggi ha detto che con l'organizzatore non si farà l'accordo per la Regione Lazio. Quindi è un po' una porta in faccia.